Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il mondo dello sport è in apprensione per le condizioni di salute di Gianluca Vialli. L'ex calciatore sta lottando da tempo con una grave malattia. Di recente è stato ricoverato in un ospedale di Londra. Tutti tengono il fiato sospeso, ma nel frattempo pare sia arrivata una buona notizia dall'ospedale. Dal tempo Gianluca Vialli sta lottando con un tumore al pancreas. L'ex calciatore sembrava aver vinto questa partita, ma in realtà la malattia è ricomparsa. Vialli è stato costretto a lasciare l'incarico con la nazionale italiana e dopo pochi giorni è stato ricoverato in un ospedale di Londra. Ogni giorno arrivano aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute. Tutti tengono il fiato sospeso. Il nuovo anno si è aperto con un vento di speranza in merito alle condizioni di salute di Gianluca Vialli. L'ex calciatore è seguito dal celebre oncologo David Cunningham, che gli è stato vicino sin dall'insorgere dei primi sintomi della malattia. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal secolo XIX, le condizioni di Gianluca Vialli sarebbero stabili. Questo, dunque, fa ben sperare. Le condizioni stabili potrebbero permettere all'ex calciatore di vincere questa importante partita. Tutti quelli che lo circondano, però, predicano cautela. Quella di Vialli è una malattia perfida, che, quando sembra sconfitta, all'improvviso ricompare.